In quest'ultima battaglia del quinto capitolo della modalità storia di Injustice 2, Lanterna Verde deve affrontare una pericolosa Lanterna Rossa piena di rabbia. È sempre così atroce e sfoga sempre le sue atrocità. Ecco perché lo chiamano Atrocitus. Bisogna sconfiggere l'Atrocitus, se no distruggerà tutta Atlantide. Però Atrocitus non è solo, c'è il suo gatto Dexter. Sia Injustice, Goza Among Us, Lanterna Verde aveva sconfitto Sinestro e Lanterna Gialla. Ora per la prima volta affronta questa Lanterna Rossa Atrocitus. E abbiamo sconfitto Atrocitus e le atrocità devono sparire. Vi saluto, arrivederci, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale.